Ciao a tutti! Oggi vado a assaggiare dolci mexicani. Ho abbastanza dolci qua. Io detesto i cibi piccanti, non mangio nulla di piccante e spero che questi dolci non vadano a essere piccanti. Cominciamo? Allora, prima che vado a assaggiare è questo qua. Sono biscotti di marshmallow. Non so come dire marshmallow in italiano. Allora, marshmallow. Ciao a tutti! Questo è morbidissimo. Qua c'è un po' di marmellata. Ciao a tutti! Questo è buonissimo. È buono, buono. Ora vado a mangiare questo gansito. È buonissimo. 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 con crema dolce questo è un grandissimo no per me è troppo dolcissimo e davvero sento che sento che ho mangiato un cucchiaio di zucchero è troppo dolce no? mi dispiace ma non mi piacciono questi qua sono Obleas milk candy wafers waffle di caramello di latte credo questi sembrano buonissimi non mi piacciono 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 ma è buonissimo è davvero buono è dolcissimo è dolcissimo però buono e questi qua sono cucchiai e sono caramelle con tamarindo non mi piacciono non ho un'idea cos'è tamarindo però per me è che qualcosa piccante non mi piacciono non mi piacciono ok non mi piacciono non mi piacciono il vino non mi piacciono ma l'idea Questa è terribile. Non mi è piaciuto nulla. È piccante, è salato, è acidico, è un po' dolce. Però per me è la morte. Non mi è piaciuto. No, no, questo no. Allora, questi sono caramelle. Lo so che questi non mi vanno a piacere. Però comunque vado a mangiare questa qua, caramella con sapore di anguria e anche peperoncini. Le cili, 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 peperoncini. Veniamo. Tan tan tan. Tan tan. Tan tan. Tan tan. Tan tan. Tan tan. A presto. Grazie a tutti. Questo è terribile, guardate, ecco il cile, ecco il cile, il peperoncino, peperoncino, ma com'è? È piccante, è terribile. Ma questo è buono outside. È buonissimo perché è dolce e ha un sapore vero di anguria. Però all'interno è terribile. Raga, è terribile. È troppo piccante. Ma perché mettere cose piccante nei dolci? No, no. Questo sembra innocuo perché proprio sono dolci di arachide. Allora non vado a piccare nulla. Allora. 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 Questo è buono, però non è per me. perché è troppo dolce, è morbidissimo, a me non piace così tanto, a mio marito piacerebbe tantissimo, lui lo divorerà tutto. Alla prossima. Grazie a tutti. 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 Questo è davvero buonissimo, mi piace tanto. E questo è tutto carissimi. Non posso mangiare niente di più. E vi voglio ringraziare per stare qui con me. E vi voglio tanto bene. Io vi auguro un buon giorno, una buona giornata. Vi voglio tanto bene. Ciao, ciao.